Buongiorno, benvenuti. Oggi sono addirittura al centro tra due maestri della regia europea. Romeo Castellucci, folk rifter. Abbiamo tante cose da dire, un'ora di tempo. Partirei proprio con Giulio Cesare, partirei con Romeo Castellucci chiedendogli di raccontarci questo spettacolo. Da critico, da spettatore ricordo ancora l'emozione fortissima, la paura fisica, la tensione di fronte a questo spettacolo nel 1997, quando uscì per la prima volta nella sua forma intera. Oggi, anzi 2014, lo scorso anno, è tornato una versione degli estratti del primo atto e vorrei chiedere a Romeo Castellucci il perché e il come di questa scelta. Che cosa vuol dire riprendere in mano uno spettacolo a distanza di quasi dieci anni, selezionarne alcuni pezzi e rivederli vivere sulla scena o nello spazio? Sì, allora, devo dire che lavoro di 17 anni, quindi non è mai una buona, un'idea intelligentissima di riprendere delle cose del passato, almeno a me personalmente non mi piace, insomma mi infastidisce anche un po', insomma, il fatto è che me l'hanno chiesto, e il fatto è che sono una persona debole e quindi ho detto di sì, perché credo che qualche cosa alla fine, è un po' come trovare una cosa che è caduta per terra e non sai bene a chi appartenga, lo raccogli e ti sembra che ci sia ancora qualcosa, ancora un po' un oggetto sconosciuto, ecco, diventa interessante nella misura in cui ritorna ad essere sconosciuto. E allora da quel momento può essere un lavoro vivo e non funebre e non autocelebrativo e quindi ho trovato questo oggetto e ho pensato di riprenderlo in mano. Ecco, nella specificità del Giulio Cesare c'era il legame fortissimo con quei corpi, con quelle presenze fisiche, che sia nella prima parte che nella seconda parte più cupa, più dura, come hai reinventato quelle immagini? In qualche modo quegli corpi erano allora insostituibili e in qualche modo lo sono ancora oggi. Sì, allora intanto brevemente, forse per chi non conosce questo lavoro, era tratto naturalmente dal drama storico di Shakespeare, quello dal contenuto storico più preciso a dire la verità, perché Shakespeare lavorò direttamente sugli storici latini, in particolare a Svetonio, quindi una materia storica. E poi l'altra cosa che saltava gli occhi era appunto questo apparato ipertrofico della parola, che diventa quasi una malattia, quindi nell'esercizio del potere, che era appunto quello della retorica. E quindi lo spettacolo era concepito in due parti, il primo atto, quindi l'atto che si svolge a Roma, nei marmi di Roma, laddove gli uomini politici hanno tutto il potere, e il loro potere gli deriva dall'uso malvagio, vorrei dire, della parola. Parola intesa come arma, come controllo. La seconda parte invece Shakespeare ci mostra un atto completamente diverso, radicalmente diverso, dove ci sono gli stessi personaggi del primo atto, prossimo nei campi di battaglia, Sardi e Filippi, in cui tutto è perduto. Quindi questi stessi uomini, uomini politici, che non sono capaci di agire ma solo di parlare, si rendono completamente, sono completamente inetti all'azione, e tutto è perduto fin dall'inizio. Quindi regna una malinconia straordinaria. Quindi lo spettacolo era veramente concepito in due blocchi. Quindi da una parte quello retorico, da cui è stato tratto questa performance, e dall'altra invece appariva una situazione completamente bruciata, calcinata, in cui anche i corpi dovessero, avrebbero dovuto avere un segno, una marcatura molto forte, come dei bastoni bruciati. La compagnia che si è formata era antropologicamente potentissima, ed è stata una delle compagnie che mi ha più marcato. La memoria di queste compagnie me la porto ancora addosso. Ci sono persone che sono morte per la loro malattia. Quindi all'epoca avevo chiamato delle persone per la forma del corpo, ma non ero consapevole del disagio, dell'esperienza esistenziale che queste persone stavano conducendo. Ciò non di meno, queste persone hanno aderito con una grandissima affezione, un grande trasporto e entusiasmo a questo progetto. Mi riferisco in particolare a due ragazze anoressiche. Ecco, poi purtroppo lo spettacolo ha avuto una vita molto lunga, ha avuto una tornea molto lunga, e nel corso del tempo ci sono stati degli incidenti, degli abbandoni, delle persone che sono morte. Questa è la ragione per cui è uno spettacolo impossibile da riprendere, uno spettacolo che voglio custodire, almeno questa parte, solo nella memoria. Quindi è una cosa su cui non posso assolutamente tornare indietro, proprio perché mi ha marcato profondamente. La cosa che ho ripreso è alcuni monologhi dal primo atto, in cui appunto c'è, per chi non l'ha visto, insomma due monologhi. Il primo, apparentemente insignificante, ma per me molto significativo, è il dialogo d'apertura di Marullo, un senatore che parla con uno del popolo, che guarda a casa fa il ciabattino, cioè uno che ripara le scarpe. E per me era lampante la relazione tra la scarpa e la bocca, quindi l'apparato proprio fonatorio. Questo dialogo, che poi è condotto da un unico attore, veniva pensato, organizzato, attraverso l'uso di un endoscopio, che questo attore si doveva inserire in una narice, per poi scoprire, si potrebbe dire, entrare nella caverna del proprio corpo, la sorgente muscolare, per non dire sessuale, delle parole. E quindi si vedeva in tempo reale palpitare la gola di quest'attore. Quindi era la prima immagine, la prima immagine che si ha dell'attore era quella di un guanto rovesciato. Quindi si vedeva l'interno, non l'interiorità, proprio l'interno fisico, biologico, di un attore. Questo era un primo così taglio, è come un biglietto da visita. Questo è Giulio Cesare. Poi ho salvato l'altra parte, alla quale sono molto legato, che è il monologo... Questo è l'ultimo, dopo ho finito, sta diventando un po' troppo... Ci torniamo, insomma. Ci torniamo. No, 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 ma dopo lascio la parola. Il monologo di Marco Antonio, che è il monologo vincente, come sapete, quindi si confrontano due tipi di retoriche. Quella di Marco Antonio era più asiatica, più orientale, più sensuale, e vince sulla retorica di Brutto. Quindi c'è questo bellissimo pezzo di straordinaria potenza drammatica. e questo monologo viene recitato da Dalmazio Masini, che è un attore che ha subito una laryngitomia. E quindi esprime questo testo attraverso una tecnica fonotoria parallela, che non ha niente a che fare con quella che sto usando in questo momento, essendo una voce esofagea, quindi produce il risuonatore allo stomaco, e quindi lui soffia come un mantici del corpo intero, perché i polmoni non gli servono per parlare, avendo uno stoma nella gola. Ecco, il discorso di Marco Antonio è vincente perché è un discorso tutto organizzato sulle ferite di Cesare, no? Quindi mostra i colpi di pugnale nel mantello e dice povere bocche mute. Ed ecco che questo attore effettivamente ha una bocca muta e in modo indiscutibile, in modo apodittico riesce a a fare coincidere le parole con le cose, a fare collimare l'emozione del popolo e in questo caso anche degli spettatori. Perché una ferita parla della ferita. E quindi questo è colui che vince. Quindi questo si vede questo estratto. Grazie, grazie Romeo. Folk Richter è una, per noi, una novità, una scopertola. Abbiamo conosciuto lo scorso anno qui alla Biennale ma per quanto i suoi testi, i suoi spettacoli siano rappresentati in tutto il mondo in Italia no. Quindi con grande piacere abbiamo accolto Never, Forever. E allora chiederei a Folk Richter di in qualche modo presentarsi. Presentarsi nella sua pratica creativa, nel suo processo creativo. Drammaturgo, regista, coreografo in qualche modo dal momento che lavora in stretto contatto in questo caso con la compagnia Total Brutal. come si avvia il percorso creativo, da cosa prende vita il percorso creativo di Folk Richter. I will speak in English so that you have a chance to understand me. My actual language is German, obviously. Well, I, thank you for letting me introduce myself. So I'm a writer and I'm a theater director and I've written a lot of plays actually that are dealing with the world that we live in today I would say with the way people communicate with each other and I'm really interested in the question how the system in which we live, let's say the political and the economical system, influence our way of thinking and feeling and how they influence us physically also and mentally so I am, I have become really interested in the physical state of the human being in mostly western society and, you know, what pressures are we under and what are our goals or what are actually our mindsets and how much is left of our identity and how much is left of what you could call a soul and how do they connect with our bodies and in all of my texts I'm really dealing with that I'm dealing with yeah, with the question of the physical and the psychological and the mental being and when I started one of my first projects in 97, 98 I was already working together with a group of dancers I was working together with a choreographer Anouk van Dijk and so basically in our work we are researching also these meeting points but also the conflict points between these two theatrical languages of dance and text and if you ask about the creative process the creation in a way I can describe it like that that actually we create a space of emergence I would call it like that it's almost like we are kind of withdrawing in a sort of factory-like environment where we really experiment a lot on the question of how movement can influence text and how my text can then be transformed into a choreographic language how can a text bring an actor or a performer into a certain state that is a physical state you know it can be very simple it can be for example a state of being sleepless or overworked or extremely tired but pushing yourself it's a certain energetic state we all know in the western world to push yourself over and over again across certain limits and how does the body react then what does a body feel like that hasn't been touched for a long long time or a body that kind of can only react almost in a neurotic way to proximity and intimacy what spaces of intimacy do we have in our world you know our world is drifting more and more towards a virtual way of meeting so what happens if two bodies meet or collide and on top of that lately as a writer I have become more and more interested in the actual stories of my people that I'm working with of the performers so I'm trying to form a group of people that I would consider storytellers themselves so people that actually do have stories to tell maybe people with a complex background people that come from mixed national backgrounds people that have a different sense of gender than the mainstream has and what are the stories that are contained in their bodies and their experience and I am encouraging in a way to talk to me to improvise with me and then I'm writing it down and I'm developing my pieces as we go through the process in the end it actually results into something that is a set play it's a text it's a written text although there's a lot of improvisation throughout the process but in the end it's actually a play it's published as a book it's translated and people then actually do use it as a play and other companies work with my text as well but how I work it's you know it's kind of a give and take the whole time I come with a lot of material that I introduce to the performers but they also introduce a lot and it's really a dialogue and it's a collective work in a way where I am writing it down in the end Ecco ma in questo lavoro collettivo in questo lavoro collettivo quanto e come interviene il regista come riesce a guidare e a stimolare la creazione dei performer su delle chiavi d'accesso su dei punti comune su dei temi che avete scelto appunto di indagine sociale o di identità Well of course I am responsible for for what's coming out you know that's also why I'm there that's my job and this is also in a way my responsibility that's why the performers can give so much because they know there is someone who's taking care first of all it has to be a safe place for everyone you know the rehearsal space have to be a safe place so everyone can feel safe enough to share or to try out I mean we have actors that are experiencing physical work for the first time you know the actual way of a German actor the way they are trained is you know it's text based it's based on classical German literature or world literature so it's not so it's not so well known in the I would say in the classical German acting school or theater even still to just talk about yourself or to suddenly shift into a physical movement rather than you know sitting on sofas and talking about your marriage problems or something and so in a way yes I usually choose very carefully who I work with and then also of course I am investigating certain issues that I'm interested in it's always something that I am actually interested in I can give you an example at the moment for example I have become really interested in the politics of identity in Europe we experience I would say generally speaking two movements two very strong opposing movements one is more towards a very open society where we can redefine what it means to be having a masculine identity or a feminine identity where national identity is not so important anymore you know where people of mixed national backgrounds are living in a country and they're contributing to a country in Berlin you see that Germany is redefining what it means to be German I think every European country goes through this process at the moment that we have Germans of African background Germans of Turkish backgrounds but they are German they speak perfect German they went in school in Germany and they don't look like your you know blonde blue eyed typical German but they are part of the society and they are what forms and makes society and then we have a really strong movement at the moment towards the right the nationalistic right that wants to go back to very old concepts fascist concepts of identity fascist fascist concepts of masculinity and femininity they're introducing concepts like a German woman has to have three children otherwise she is not contributing to society you know these groups are forming I think all all European countries do have them now in Germany it always feels a bit more scary when they are forming because you know Germany I would say has this kind of sleeping demon and it's been kind of quiet since World War II but it's kind of waking up right now and and I don't know there's there's always the danger in a way that it's it's kind of becoming a bit more infectious and I'm really interested what what that is why some people are so afraid of an open society why some people are trying to go back you know in their in their sense of nationality and this is what we're talking about at the moment for example you know I directed Romeo Castellucci il biglietto da visita la prima immagine di questa gola palpitante e sappiamo che il teatro di Castellucci è un teatro ricco di immagini straordinarie immagini che ci travolgono come un magma allora ecco la domanda eterna come nasce un'immagine come cogli l'immagine ma io cioè si è vero utilizzo delle immagini immagini che non sono mie non invento assolutamente niente l'immagine è una parola abbastanza una parola molto bella molto densa che è problematica deve rimanere problematica l'immagine l'immagine non è la cosa ma adesso è inutile fare una lezione di semiologia ma in ogni caso là dove c'è un'immagine c'è una separazione quindi vuol dire che smette di essere un'illustrazione diventa un'immagine l'immagine è qualcosa che è staccato dal contesto è qualcosa che ci parla in forma anonima che è in grado di pronunciare il nostro nome e di guardarci in faccia quindi è qualcosa che sfugge anche ad ogni definizione siamo noi che apparteniamo alle immagini e quindi si tratta di evocare le immagini in qualche modo e poi è vero e non è vero che lavoro con le immagini io perché è vero utilizzo delle immagini che possono essere giudicate forti eccetera ma non è quella la cosa non è quello il problema credo il problema è quello di lavorare tra le immagini e tra le cose e quindi sostanzialmente è un lavoro di giusta posizione di contrasto di contrapunto tra le immagini in modo tale da sottrarre informazione il mio problema è quello di togliere informazione quindi di dosare le informazioni quindi di creare spazio tra le immagini in modo tale da creare uno spazio di perfetta vacuità di indeterminatezza di indeterminazione quindi laddove appunto le immagini non ci sono più per me questa è la cosa più interessante quindi direi che è una falsa pista quella che io sul fatto che io lavoro con le immagini non è vero mi sembra di lavorare su lo spazio che le immagini creano la loro distanza non lo so su quello che non dicono cioè come sappiamo un'immagine ha anche un lato scuro quindi non è un'illustrazione l'illustrazione è perfettamente bidimensionale come sappiamo appartiene al mondo della comunicazione un'immagine invece ha uno spessore ha una tridimensionalità in quanto tale ha un lato d'ombra ecco ciò che sfugge è la cosa interessante dell'immagine la misura in cui non ci sono parole per raggiungerla questa è la cosa interessante la buona notizia è che non è un mio problema non è più un mio problema perché non sono io che devo che devo giustificare o devo disporre l'immagine in senso pedagogico e non credo nella pedagogia lo spettatore deve deve essere abbandonato in questo lavoro di ricerca e di scavo che molto spesso si rivolge nella propria interiorità quindi questo grazie soltanto a un'operazione di sostrazione fondamentalmente hai evocato lo spettatore che è centrale nella ricerca di tutti di questi anni il tuo rapporto con lo spettatore il vostro rapporto con lo spettatore allora come è cambiato se è cambiato lo spettatore del 1990 del Giulio Cesare del 97 e del Giulio Cesare di oggi beh del 97 quello di oggi non è cambiato moltissimo se non che è uno spettatore uno spettatore che e qui dirò una banalità conosce di più ma non c'è una grandissima differenza c'è una differenza con lo spettatore dell'Ottocento certo per me uno spettatore non è un bamboccio non è un bambino credo che sia una persona adulta che è in grado di fare le proprie scelte e di e di e di essere e di avere una 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 responsabilità non credo assolutamente che la responsabilità appartenga all'artista credo che l'artista sia colui che deve scomparire per definizione deve proprio dileguarsi proprio per lasciare lasciare sul sul terreno un problema un magnifico problema lo spettatore è lasciato da solo abbandonato mi piace abbandonare lo spettatore perché credo in lui credo nella sua capacità di invenzione di creazione credo nella sua responsabilità credo nella sua capacità di fare delle scelte e anche di di comporre perché no detto questo necessariamente credo in un'epoca in cui la comunicazione è la disfunzione esistenziale fondamentale che è sotto gli occhi di tutti è un letto di malattia l'informazione la comunicazione è un letto di malattia e credo che il teatro o se volete l'esperienza dell'arte molto più che la chiesa per esempio molto più che la religione a questo punto è diventato un momento in cui si possono pensare alcuni momenti fondamentali della propria vita e quindi trovo che sia un'esperienza profondamente spirituale per quanto problematica possa apparire questa parola e dunque questo non c'è niente da comunicare non c'è niente da da spiegare non c'è pedagogia è un oggetto sconosciuto deve poter ritornare ad essere strano il teatro vorrei proteggere la stranezza del teatro è strano no? cioè non è un fatto scontato non è un'abitudine non andiamo a teatro per avere un commento su quello che esiste ma è uno sguardo su ciò che ancora non è stato visto un pensiero sull'impensato un luogo dove si deve in qualche modo essere trafitti non voglio dire necessariamente della bellezza anche della bruttezza ma trafitti grazie Volkrichter è d'accordo il teatro è strano è qualcosa che ha a che fare con la stranezza che non non immediatamente understand con la stranezza che trattano o che disturba in questo senso la stranezza è un'equivillante che è un'equivalente che è un'equivillante che è un'equivalente che è un'equivalente go through a certain experience rather than being lectured or understanding a concept that I want them to understand, it's more like they have the chance or they could have the chance to kind of go through different states themselves experience things that they might not experience outside the theater I do agree that communication has become very problematic in our society, I think my piece Never Forever is really dealing with that almost with the horror and the nightmare of the fact that communication today is always non-communication in a way or is really leading to isolation and I am kind of juxtaposing I would say two generations or or two different concepts of communication or telling your story I have in my show Never Forever there's a very old lady it's a German actress she's very well known in Germany Thomas Bernhard once wrote a play for her she's called Ilse Ritter and the play is called Ritter Dene Foss it's probably also known in Italy so I got very interested in you know what is the actual story of this particular actress and this woman and in the theater in my theater for example I also do not really believe in replacing actors I hate that concept I think a show that I make with a certain performer has to be performed with that performer it doesn't always work but most of the time I absolutely object to getting a replacement and I the characters are called after the the person that is actually working with me on the show and when I when I was working with Ilse Ritter we got on very well it was a very personal experience for me as well because when I was 14 I was watching my first theater pieces in my hometown and she was the star actress at the time working with all the famous directors at the time so she was also kind of guiding me into the world of theater and later she called me and asked me if she could work with me because she had seen some of my stuff and she got really interested and then we we shaped this relationship and it got quite personal and everything she says on stage is somehow taken from her personal story and then I'm comparing this to like her biography or how she talks about her life as the opposite you know it's like the timeline for example that we have on Facebook you know where you where you just basically add information about a person or this obsession with collecting data about people that was introduced by the NSA really to our society that there is this obsession with surveillance and the idea that the more information you collect about a person just dry technological data at what time do they google what and at what time do they phone who and what are they interested in that this could possibly shape a picture of a person but it does not it just creates a paranoiac vision so I'm kind of juxtaposing this idea of really getting to know someone and spending a lot of time with someone and listening to a personal story to for example collecting these just these data about someone and just these pieces of information and it's also kind of interesting to work with someone who's so unknown to this whole world of modern communication you know someone who doesn't know how the internet works who doesn't really have a phone and a mailbox or anything who actually expects people to knock on the door and it's interesting to kind of see how this world still functions and then how you can compare it to our world in a way I think yeah with this piece it's I think that it was kind of a very dark vision at the time of myself that I really felt a loss in a way I felt that there's a lot of things getting lost in humanity at the moment and when I watched it yesterday I also felt there are actually some scenes where it almost feels like these beings on stage they become something post-human in a way or something not human anymore in the way they are acting or reacting with each other interacting with each other so in a way I wouldn't call it a judgment for me it was more like a vision or I would present a possibility in its most negative way really almost that it's there for us to see it and also to decide not to go into that direction it's almost an apocalyptic version of how we might communicate if we go on like that and in that sense yeah it's showing people that are in a way really truly dysfunctional when it comes to allowing intimacy between each other I would also say as a writer I would not even describe it that I was writing about characters it's more that I was trying to find a way of for example how structurally something like the NSA how that actually works and the mindset behind that and that putting that into a character that you feel what that actually is what kind of communication that actually is yeah naturalmente c'è spazio per le domande del pubblico prima di cedervi la parola voglio solo tornare con Romeo Castellucci a un omaggio che c'è all'interno di Giulio Cesare che è questo evanescente Stanislavski un omaggio anche ironico se vogliamo che aveva un senso forte nel 97 naturalmente anche in questa endoscopia del personaggio che valore ha oggi lo rifaresti questo omaggio beh sì lo rifarei perché comunque Stanislavski voglio dire che è stato importante sì è stato importante per me quando ero adolescente ho letto il lavoro dell'attore non ci avevo capito molto ma insomma però ho capito che è stato qualcuno che ha spalancato diciamo sì proprio spalancato le porte assieme alla complicità probabilmente di Gordon Craig al teatro moderno e quindi dando un ruolo particolare particolarissimo proprio al lavoro dell'attore ponendolo al centro del palco come un fuoco e quindi o c'è il fuoco oppure proprio non c'è non c'è teatro quindi questa è una sua intuizione profondissima che poi è stata raccolta in senso radicale da Grotowski come sappiamo e quindi ci sono queste vie ma intanto lo sapete meglio di me fate tutti il teatro quindi è inutile che lo racconti però devo dire che è stato vivificato questa memoria di Seneslavsky anche degli ultimi lavori che ho fatto a Mosca con degli attori che usano Seneslavsky in Russia è molto molto presente molto vivo si direbbe che è ancora vivo parlano di lui come di uno zio insomma che è dall'altra parte della stanza è molto presente mi ha molto colpito questo questo modo di concepire il teatro e devo dire con dei risultati straordinari che mi hanno profondamente colpito quindi direi che sì l'avrei rifatto proprio in base anche alle mie esperienze di lavoro con gli attori russi perché comunque è un po' a proposito della stranezza cioè è veramente un modo di concepire il teatro come l'esistenza come ha confuso l'arte e la vita insomma qualcosa di c'è anche un aspetto estremamente problematico se volete è anche pericoloso questo scavo scabroso nella propria interiorità che per me è un tabù cioè non riesco assolutamente a fare un lavoro psicologico con gli attori proprio non ne voglio sapere proprio un fatto privato e intimo che non mi appartiene ma proprio per questo forse c'è così questo sento che ci sono delle sorgenti nascoste e forse lui è uno di quelli che ha aperto la strada in questo senso quindi sì forse lo farei ancora un po' ironico forse sì anche perché Stanislavski si legge soltanto Vski quindi sta uscendo dalla porta se ne sta andando riusciamo a vedere soltanto la coda del suo nome che d'altra parte potrebbe anche essere qualcun altro poi che finisce con Vski sì ma anche Grotto schifo quindi è qualcuno che se ne sta andando un animale che scappa che ha fatto il suo lavoro qualcosa di genere domande del pubblico uno due qui in prima fila tre io ho una domanda per Romeo Castellucci grazie mille dello spettacolo di Ari io l'ho già visto l'anno scorso alla biblioteca nazionale di Firenze e quindi mi domandavo mi ponevo la questione dello spazio performativo perché ho trovato la rappresentazione estremamente diversa e per fare un esempio anche la fine con non so lo spegnimento la situazione delle lampade l'ho trovata a meno forze per esempio ieri perché lo spazio forcerà così allora è uno spettacolo senza una performance anzi no è uno spettacolo perché non è una performance è uno spettacolo breve che è suscettibile moltissimo all'ambiente che lo circonda perché non ha una scenografia ci sono solo alcuni elementi e quindi la richiesta che faccio per poterlo fare è duplice da una parte un ambiente di marmo con un riferimento ad ambienti neoclassici possibilmente con sculture il caso di Venezia oppure degli ambienti brutali di cemento industriali possibilmente tossici possibilmente stabilimenti che maneggiano che hanno maneggiato elementi tossici queste sono le due location ed è ovvio che risuono in modo diverso ad ogni questo fa parte del gioco fa parte anche un modo di tenerlo vivo di tenerlo in tensione di tenerlo nevroticamente in tensione potrebbe non funzionare e quindi c'è questo elemento anche tra di noi di confronto continuo che lo rende lo rende possibilmente ancora vivo e certo reagisce moltissimo qui siamo alla luce del sole e quindi è molto diverso il senso della frattura delle lampadine anche il significato voglio dire cambia profondamente ma è così è simile ma non è la stessa cosa sono giapponese non ho visto Inter Giulio Cesare ma ho visto un altro spettacolo quest'anno si chiama Godan Moses si tratta di un altro dirigente in caso di Giulio Cesare è dirigente politico e in caso di Moses è un dirigente religioso e voi c'è qualcosa di similitudine pensate tra un dirigente politico e un dirigente della religione poi c'è questo collegamento con qualcosa fisico come coda vocale emozione e la politica e pensa anche c'è questo collegamento dell'emozione della fisica alla religione si grazie devo dire che Mosè è un capo spirituale ma prima di tutto un capo politico perché è quello che appunto si è dotato di una legge per governare un popolo altrimenti ingovernabile un popolo bambino e quindi è effettivamente la somma di una guida spirituale è una guida politica ma ogni guida politica è anche spirituale a sua volta quindi le nostre due cose non sono inscindibili e anche per quanto riguarda l'aspetto il corpo il corpo del capo chiaramente è un elemento in cui la retorica si accampa in modo prodigioso quindi ogni segno che appartiene al corpo del capo viene letto e viene trattato quindi anche questo è un elemento antichissimo non è soltanto dei giorni d'oggi o del giorno d'oggi ma insomma come appare il corpo del capo cioè la politica del corpo del capo e questo era presente in Giulio Cesare era presente in Mosè ed è necessariamente presente anche ai giorni nostri non mi sembra di dire niente di intelligente però è un dato di fatto è un dato di fatto I have a question for Actually it's a twofold maybe Concerning the concept of communication that you were you know saying that you're very interested in it in your works and about the show that we saw yesterday First of all I personally found that there was a lot of redundancy because you you know all the stories every character was bringing their story but to me they were not adding that much to what had been said to that point so I was I was wondering if that's something that's part of the dramaturgy something that you wanted or just something that I didn't get and I apologize if I didn't and another thing always concerning the communication thing is that what I was really hit by is the relationship daughter mother mother daughter because as you said the old lady belongs to the pre-internet world let's call it like but still to me she well she forgets who her daughter is and everything so to me it's you know it reminds me of Alzheimer's syndrome and everything so but from a communication point of view is it I don't know is it that you just see there's no future or no hope for human beings like you know or like different difficult or is it just you know this difficulty in communicating between different generations or what is thanks no I don't think there's no hope and there's no future this is not my belief I also don't think it's a generational question it's really only a personal or individual question so the storyline with the older lady basically has to do with the fact that my father is dying and I was kind of going through this through the throughout the period of creation and the father of one of the dancers was dying so as I said sometimes you know in this kind of process also very personal things that maybe were not foreseen can get in and I personally got really interested in these questions what happens if the brain in the end actually does dissolve or does not contain all the information anymore or rearranges the information in their head so in this case it's actually yeah you know it's really the story of a mother and a daughter that cannot communicate anymore because she doesn't recognize her anymore but maybe also because the relationship that they were having never actually had so much impact on the two of them or maybe did not really create so much content with each other but also it was an interest in the functionality of the brain really you know in comparison to I don't know this computer with the endless capacity of saving things and storing things that the human brain of course at some point does dissolve and the question is at the end of your life what really stays so these are the questions also that they are asking this older lady what actually remains of all the text that you have said of all the experiences that you had with other people what actually stays how does the body feel at that age and what kind of relationships do you remember about the dramaturgy of my place sometimes I kind of choose to work with intensities that I would say almost like the music sometimes they become more and more intense in that sense it might feel like things add up or come back or repeat it's not so much a narrative where you need to create new information every five minutes sometimes it can also kind of intensify in a way up to a certain level and then something else happens or you basically break through something and you get into a new different dimension so that I would describe that is how my dramaturgy and some of my plays works yeah my question is for Mr. Castellucci I haven't seen the extracts yet but I did see the full Giulio Cesare some years ago and was impressed by the enormous amount of thought that was present on the stage and the intersection of conceptualization with undeniable physical reality and so my question is essentially about the relationship between theater and theory which is a big one and of course can be divisive but to keep it small I guess I would like to know a little bit about how much of the theory behind your pieces you share with the actors and how you go about that and how you find it useful for them and a word very specific that reverse engineering which is a form of spionage in which there are tech in a certain ditta that smontano the piece built by another ditta or smontano in minimi dettagli to capire how it is what is the philosophy compositive of the piece it is a form of spionage possiamo definirla anche filologia se volete e quindi sei obbligato in qualche modo a spiare a rubare a derubare le idee la filosofia compositiva di un certo pezzo e quindi attraverso questo scavo si produce necessariamente della teoria anche se non lo vuoi e quindi saltano fuori fioccano nomi perché stiamo stiamo parlando dell'archivio il grande archivio che è infinito il database dell'informazione che abbiamo su una certa immagine una certa iconografia è infinito è un delta che si apre fino a raggiungere delle zone capillari e quindi attraverso questo si produce della teoria la si incontra necessariamente anche se il gioco si svolge a livello di mammiferi e quindi tutto questo va dimenticato in qualche modo è importante ma te lo devi gettare alle spalle altrimenti diventa una trappola mortale mortale perché il teatro non è teoria e non è filosofia non deve dare risposte non deve fare commenti deve bruciare le domande e non rispondere alle domande il teatro è una forma di arte che brucia le domande ma certamente non dà risposte ma questo lo sappiamo aumenta infinitamente i problemi e quindi la teoria la devi usare come uno strumento da gettare come una zavorra se comunico sì certo mi piace moltissimo parlare con gli attori coinvolgerli da questo punto di vista per me è molto importante molto importante anche se davanti a me o davanti davanti a me ho un bambino per esempio o una persona che non gliene frega assolutamente niente del teatro delle teorie ma per me è importantissimo coinvolgerlo attraverso questi giri di pensieri per essere sicuri che stiamo nello stesso luogo nello stesso spazio tempo per essere sicuri che stiamo più o meno guardando dalla stessa parte nella stessa direzione e poi ricevo molto ricevo moltissimo dalle impressioni degli attori delle loro idee moltissimo si gioca moltissimo sullo scambio di pensieri per me è molto importante ultima domanda forse un'altra abbiamo tempo per farne vediamo buonasera a tutti io volevo cominciare con una constatazione poi fare due domande una a Castellucci e una a Richter la constatazione forse che cosa ha comune i due autori che hanno agito in un contesto non oggi rispetto a quello che hanno fatto precedentemente molto caratterizzato dalla postmodernità dalla filosofia postmoderna però attenzione per me non è una bestemmia faccio riferimento alla fine delle grandi narrazioni quindi quello che diceva Castellucci Brecht è morto e anche io non mi sento molto bene però è morto anche tutto il teatro pedagogico quello ci dava grandi risposte e però anche a Derrida l'ermeneutica allora la domanda a Castellucci dice questa Escherò diceva benché avessero gli occhi nulla vedevano c'è una postmodernità invece che è andata a finire male che è quella che ha dato eccessivamente immagini senza pensieri e ci ha creato una società di invisibili perché le cose che contano non hanno immagini allora da questo punto di vista io sono d'accordo che il teatro non deve dare risposte che deve porre le domande ma in questo eglio diceva cosa succederà quella società che ha trasformato la saggezza in conoscenza e la conoscenza in informazione allora non è che nella scelta delle domande il teatro deve dare la saggezza di una società questa è la prima domanda invece per Richter è il riferimento al concetto di identità io non posso dire io sono tedesco perché l'identità per Antonomais è un divenire non è mai un essere però questo divenire ha a che fare con un dialogo con una scelta di valore lei sa meglio di me che in questo momento c'è un grande dibattito sulla nuova costituzione tedesca che ha dato ad esempio contemporaneamente dignità di diritto al dolore degli animali ma anche dignità a tutti i credi possibili quindi è venuto fuori ad esempio che siccome gli ebrei e i musulmani scannano gli agnelli non possono più fare questi riti allora voi vedete che in questo divenire vuol dire fare delle scelte e da questo punto di vista forse Kant che era un grande tedesco ci insegna che queste scelte devono essere anche universali beh una parte della domanda direi che è una domanda che è anche un'affermazione quindi non ho molto da aggiungere se non quello appunto di quello di cui parlavo prima insomma quindi è un modo di di porsi senza obiettivi lo sguardo lo sguardo dell'arte non ha non ha un aggancio non ha non ha non ha e non deve avere dal mio punto di vista nessuna intenzione rispetto alla società paradossalmente lo sappiamo bene che il teatro è l'espressione della città neppure della cività ma proprio della città ma ma proprio per questo deve prendere le distanze dalla società o meglio può può meglio descrivere sintomaticamente ma è solo come sintomo la società proprio perché fa un passo da parte si scarta dalla società ne viene fuori ed è per questo che la scena è sempre una abiezione è sempre un luogo sbagliato è la scena dell'errore proprio perché bisogna tirarsi fuori dalla società e quindi non dire nulla di intelligente su questo non dare nessuna consolazione questo era questo non lo dico io ma mi sembra che l'abbia citato anche lei questa è la gattologia di Greca no? quindi non c'è niente da dire non c'è nessuno che ti tiene la manina e che ti porta in un luogo sicuro non credo dove si tratti di questo se ho capito la domanda non c'è nessuno di questo non c'è nessuno che mi ha chiesto inoltre ma si tratta come un text che potrebbe essere performato sull'epoca quindi mi piace lasciarlo bene grazie a Romeo Castellucci grazie a Rod Rifter grazie a voi a domani grazie 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 a